Vediamo lo sport, Jessica Meloni vince al Tarantini Fight, vediamo la protagonista assoluta dello sport, il servizio di Emanuele Floris. Il ring dominato dalle donne al Tarantini Fight Center nei giorni scorsi e l'altra metà del cielo a lasciare il segno nella 29esima edizione del Muay Thai Explosion, con quattro incontri tutti ad alto tasso d'adrenalina, un'edizione che segna anche il ritorno al combattimento dopo lo stop pandemico. Ci tenevamo dopo lo stop del Covid a fare qualcosa per questi ragazzi, soprattutto per i giovani, perché devono abituarsi a stare sul ring. E' Jessica Meloni la protagonista assoluta della serata grazie al match contro la siciliana Noemi Romano, tre round appaltati dalla Sassarese, campionista italiana in carica, World Muay Thai Council e Federal Combat. Sono contenta, abbiamo messo sul campo quello per cui ho lavorato, insieme ai miei coach, al mio maestro, ai miei compagni che mi hanno aiutato. Grande spettacolo di box e arti marziali con numerosi corpo a corpo tentati dall'indomita romano. Alla fine però prevale Meloni nonostante la febbre. L'avversaria era un piccolo torello, caspita, complimenti, infatti anche a lei, potevo sicuramente fare meglio, ma è andata bene, quindi sono soddisfatta. Emozioni anche negli altri tre incontri femminili e nei quattro della categoria maschile, uno show che ha entusiasmato i molti spettatori presenti.